Potrebbe essere un fiorarocchiello dell'assistenza al servizio sanitario pescarese, stiamo parlando del distretto sanitario di base Pescara Sud con annesso poliambulatorio e invece uno scheletro. È uno scheletro, la struttura che avete appena visto è ferma da 13 anni in quelle condizioni. Allora questa mozione per far ripartire i lavori immediatamente, per realizzare poi finalmente il distretto sanitario di base di Pescara Sud, che è una struttura fondamentale per metà della città, andrebbe a servire una popolazione di circa 50.000 abitanti. Ma perché in queste condizioni? Per un infinito contenzioso e lungaggini burocratiche, insomma una classica situazione italiana, cioè uno scheletro che sta lì, iniziarono i lavori nel 2000 e si fermarono subito per una serie di contenziosi. Con questa mozione un richiamo ben preciso all'amministrazione? Ma oggi facciamo una mozione in cui chiediamo all'amministrazione di attivarsi immediatamente presso la ASL per far ripartire subito i lavori. Io devo dire che da un'interlocuzione avuta con la ASL sono la direzione generale pronta a far ripartire i lavori già per un primo lotto, avendo a disposizione già una cifra immediata da poter impiegare di circa 482.000 euro per la realizzazione del CUP e di alcuni uffici. Poi successivamente con una cifra di 2.191.000 da richiedere alla Regione, per questo questa iniziativa, si potrà completare questa struttura importantissima che darà alcune risposte fondamentali alla città di Pescara, come appunto una riduzione delle liste di attesa, che non è poco, lo snellimento delle prenotazioni, servizi ambulatoriali e territoriali, riduzione del ricorso a spese improprie, una sensibile riduzione di spostamenti e mobilità verso il centro cittadino con effetti immediati positivi sulla qualità dell'aria e poi la riduzione di spese da parte dell'ASL per il fitto di immobili in giro. Si può fare? Questo si può fare, noi adesso stiamo facendo una battaglia affinché venga immediatamente sbloccata il contenzioso, partono i lavori e finalmente Pescara potrà avere questa importantissima struttura. Grazie a tutti.